4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 5, 6, 7, 8, 9 e 10 2, 3, 4, 5, giù via, cambio 1, 2, 3, 4, 5, giù via 1, 2, 3, 4, 5, giù via 1, 2, dai, dai 1, 2, 3, 4, 5, giù ultimo 3, 4, 5, giù lungo un attimo la schiena via 1, 2, 3 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 portiamo solo un attimo le ginocchia al petto 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mi raccomando ragazzi, non è solo il movimento della caviglia e del piede, ma mi concentro, vengo su quel busto e ruoto l'anca, ok? La testa del femore che deve ruotare nella propria segna. Vai! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, ok? Ok, di nuovo appoggio sulle mani, vado a divaricare, ok, portiamo le mani più avanti, bravo, due, gambe distese, tre, quattro, cinque, per scaricare il busto avanti, sei, Quattro, forti, fatico, lo metto, mi porto... E lo tollo? Quattro, sono i piedi che ci siamo un po' più complicati, è un quadratto, direzione, eh, dovete vedere qui? Facciamo un quadratto, uno di qua, uno di là, ok? Stallone, a terra, vai porti il busto indietro, perfetto, riusci con le mani, va bene anche a terra, guardalo un pochino più avanti, non ce la fai, vai giù o meno un attimo, cerchiamo la posizione bene, tallone a terra, flami tallone dai, dai, dai vai, proviamo la sagittale posizione sagittale, via questa dovrà venire a tutti no, no, rimaniamo fermi qualche secondo qua torno, sette da una parte tre torno quattro torno cinque sei sette e otto ok, recupero grazie 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 estensione piede a martello e richiamo bravo estensione piede a martello e richiamo vedi con le spalle alza i ginocchi non i talloni alza i ginocchi avanti prima con il ginocchio poi dopo ora facciamo quelli laterali e a ritmo apro e chiudo su bene le gambe adesso l'ostacolo è solo un punto di riferimento l'ultimo passaggio sotto l'ultimo passaggio sotto l'ultimo passaggio andiamo di qua in occhio dietro deve quasi toccare terra bene ampio davanti il passo dritti col busto io anche ancora france bravo eccolo lì bravo francesco perfetto ecco vado avanti mi vuole dar per terra questo è bene bene vado avanti vado avanti controllati bravo narduz tutto bene narduz andiamo giudendo un punto grazie 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 bravo 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 5 6 7 8 9 10 spettiamo sul fianco destro fondo laterale bene sempre allineati con il ginocchio zio a punta destra bravo bene troppo avanti con il busto bene bravo via apro quanto più riesco la punta del piede sempre rivolta in avanti non aprirò spettiamo seguite non aprirò non aprirò non aprirò facciamo un testo e sinistro nella gamba tesa il busto dritto grazie speso la tua gamba sinistra eh Grazie. 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 3, 4, 5. Cambio passo, mani interno, via. 1, 2, 3, 4.